allora scoppiamo tutto il lavoro delle lezioni precedenti stasera allora portiamo il piede sinistro in avanti e il piede destro in dietro teniamo le gambe larghe e le gambe dritte rilassiamo le spalle i fianchi normali come si presentano quindi non dobbiamo sforzarci rimaniamo in maniera natural chiudiamo gli occhi veniamo conoscendo dove si trova l'espiro come l'espiro e iniziamo a governarlo inserendo l'inspiro le mani che vanno in su verso l'alto l'espiro le mani che spingono in giù verso il basso l'inspiro le braccia su come se spingessi qualcosa l'espiro le braccia giù inspiro espiro inspiro sulle braccia li le lascio espirando questa volta ruoto i piedi sempre i fianchi naturali per le mani che hanno le mani e le mani che abbiano bisogni anche l'espiro respirato inspiro espiro inspiro lascio le braccia lì espiro ruoto i piedi lentamente questa volta porto le mani ai fianchi e piego il ginocchio sinistro ora ruoto bene l'apertura dei fianchi in avanti quindi c'è una rotazione dove tengo sempre il ginocchio sinistro piegato tenderà a fare questo cerco di tenerlo sempre sopra la linea della camicia bene i fianchi aperti lavoro un po' con l'apertura dell'anca inspiro inspirando su le braccia e allungo la gamba espiro ruoto i piedi e giù le braccia e piego il ginocchio inspiro su le braccia e allungo la gamba espiro ruoto i piedi e giù le braccia iniziamo a coordinarci inspiro su espiro ruoto e giù inspiro su allungo espiro ruoto e giù inspiro prendiamo confidenza con il movimento espiro inspiro espiro inspiro espiro mi fermo mi fermo qui ginocchio piegato e ispirando sulle braccia rimango qua e ispirando all'argo viene brandata bene la posizione del guerriero il ginocchio in linea le spalle in linea allungo bene la gamba destra respiro cercate di avere le spalle in linea se serve mettete le mani alle spalle e regolatevi di conseguenza allungo bene le braccia espiro ispirando sulle braccia allungo la gamba ispirando ruoto i piedi allargo le braccia piego il ginocchio ispiro su allungo ispiro piego ispiro su allungo ruoto ispiro piego ispiro 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 mi fermo sulla sinistra allungo bene le braccia ispiro ricordate la posizione bene i pianti in avanti la colonna dritta il ginocchio in linea ispiro allungo bene le spalle se serve mettete le mani per sentire se avete una spalla più alta una più bassa tenetele sempre sulla stessa linea in giù verso il basso ispiro ispirando sulle braccia allungo la gamba ispirando ruoto i piedi di nuovo allargo ispiro in avanti ispiro scendo mani al tema sollevo bene il tallone destro da terra il piede destro è puntato rimango qui ginocchio sinistro in linea se riesco metto le mani interna se non riesco portare spedendo ispiro porto il tallone sinistro al gluteo sinistro il ginocchio sinistro al petto respiro allungo bene la gamba destra se riuscite mani attenti respiro braccia belle vite lunghe spalle linea i polsi mantengo continuate a respirare non bloccate il respiro non cedete respirate sempre con il lato inspirando piede sinistro tra le mani espiro tallone destro che rientra inspiro vengo su in virabrandatana espiro inspiro allungo la gamba sulle braccia espiro ruoti i piedi di nuovo in virabrandatana inspiro in avanti espiro mani a terra bene sollevo il tallone sinistro punto bene il piede sinistro gamba sinistra dritta e lunga braccia belle dritte inspiro tallone destro gluteo destro ginocchio destro al petto mantengo respiro mantengo respiro spiro braccia dritte mani sopra sotto le spalle la dietro delle spalle inspirando porto il piede destro tra le mani espiro il tallone che rientra inspiro in virabrandatana espiro svuoto inspiro bene sulle braccia lungo la gamba espiro ruoto i piedi all'arco bene il pinocchio sulle spalle inspiro sulle braccia lungo la gamba espiro ruoto i piedi e scendolo e scendolo e scendolo inspiro e scendolo inspiro inspiro su espiro ruoto i piedi e mi fermo inspiro in avanti espiro scendolo inspiro sollevo il tallone sinistro espiro mi preparo bene mani a terra inspiro tallone sinistro il gutio sinistro respiro inspirando questa volta su verso l'arco la gamba sinistra guardo il piede destro il tallone destro il suo divato respiro inspiro piede sinistro tra le mani espiro tallone destro che rientra inspiro inviro l'antagona espiro inspiro sulle braccia allungo espiro inviro grandasana inspiro in avanti espiro scendo inspiro sollevo il tallone sinistro espiro sistemo bene mani esattamente sotto le spalle inspiro tallone destro il gluteo destro espiro inspirando sulla gamba destra spingo sulle mani sguardo il piede sinistro mantengo respiro spalle in linea espiro la gamba destra non è in tensione respirate spiro piede destro tra le mani espiro tallone che rientra inspiro vengo su espiro inspiro allungo le braccia allungo la gamba espiro ruoto e scendo inspiro in avanti espiro scendo inspiro sul tallone espiro sistemo bene le mani inspiro tallone sinistro verso il gluteo sinistro espiro su inspiro piede sinistro tra le mani espiro tallone destro che rientra inspiro indira brandadana espiro inspiro allungo le braccia allungo la gamba espiro scendo inspiro in avanti espiro giù inspiro sul tallone sinistro espiro sistemo bene le mani inspiro tallone sinistro destro e spiro su inspiro piede destro tra le mani espiro tallone che rientra inspiro espiro inspiro allungo le braccia allungo la gamba espiro ruoto e scendo inspiro in avanti espiro giù inspiro sul tallone espiro sistemo le mani inspiro tallone sinistro espiro su inspiro piede sinistro tra le mani espiro tallone che rientra inspiro espiro espiro inspiro sulle braccia allungo la gamba espiro ruoto e scendo inspiro in avanti espiro giù inspiro sui tallone espiro sistemo le mani inspiro espiro inspiro piede destro tra le mani espiro tallone che rientra inspiro su espiro inspiro sulle braccia allungo la gamba espiro ruoto i piedi e qui mi fermo abbiamo capito bene il movimento la sequenza respiriamo facciamola diventare più fluida questa sequenza cerchiamo sempre di respirare con il naso di non bloccare mai respiro respiro inspiro sulle braccia allungo la gamba espiro ruoto i piedi e scendo all'arco le braccia di nuovo su inspiro allungo la gamba sulle braccia espiro ruoto i piedi e scendo inspirando in avanti e subito giù espiro sul tallone inspiro il tallone sinistro al dottio sinistro espiro su inspiro piede sinistro sulle mani espiro tallone che rientra e subito su inspirando questa volta braccio sinistro verso l'arco mano destra dietro il ginocchio adesso espiro ritorno inspiro sulle braccia allungo la gamba espiro ruoto i piedi e scendo inspirando subito giù mani a testa espiro tallone che si solleva inspiro tallone verso giù destro espiro su inspiro piede destro tra le mani espirando tallone che rientra subito su inspiro piede indietro indietro braccio destro verso l'arco espiro via brand inspiro sulle braccia allungo la gamba espiro ruoti piede scendo inspiro subito giù espiro tallone che si solleva inspiro tallone sinistro al gluteo sinistro espiro su inspiro piede sinistro espirando subito su inspiro allungo dietro espiro via brand adama inspiro allungo sulle braccia espiro ruoto e scendo inspiro subito giù espiro tallone che si solleva inspiro tallone destro espiro su inspiro piede destro tra le mani espirando subito su inspiro all'indietro espiro via brand adama inspiro sulle braccia allungo espiro ruoto e mi fermo espiro bene i chianti in linea aggiustiamo bene la postura di mezzo quando inspiro le gambe rimangono immobili la mano destra va dietro il primocchio destro il braccio destro è brutto lungo i chianti rimangono sempre bene il braccio similissimo va su lentamente mentre porto la spalla sinistra verso l'alto porto il braccio all'indietro c'è un allungamento respiro scopriamo la postura cerchiamo di avere bene la spalla che va su verso l'alto e poi all'indietro lo sguardo verso l'alto la gamba destra destra è lunga respiro ispirando ritorno respiro andiamo a scoprirla dall'altro lato ispirando sulle braccia e lungo la gamba ispirando ruoti piedi scendo all'alto bene i fianchi direzionati il ginocchio in linea ispirando mano sinistra dietro il ginocchio sinistra e su la spalla ispirando va su e all'indietro sguardo bene verso l'alto ispirate prendete coscienza anche della mano destra anche la mano destra è una direzione bene all'indietro le dita bene dritte lunghe attivate bene la prudenza sulle dita respirate gamba dritta dritta lunghe ispirando ritorno ispirò di nuovo tutto da ispirò allungo le braccia e sguardo bene la gamba destra ispirò ruoto e scendo ispirò subito giù ispirò tallone che si solleva ispirò tallone sinistro e gluteo sinistro ispirò su ispirò piede sinistro tra le mani ispirò tallone subito su ispirò ispirò all'indietro allungati ispirò torno ispirò ispirò allungo sulle braccia ispirò ruoto e scegli ispirò in avanti mani a terra ispirò sul tallone ispirò tallone destro ispirò su ispirò piede destro tra le mani ispirò tallone che riempa ispirò vengono su ispirò all'indietro ispirò ritorno ispirò ispirò allungo sulle braccia ispirò ruoto e scendi ispirò giù ispirò tallone ispirò tallone sinistro ispirò su ispirò piede sinistro ispirò vengono su ispirò 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 allungo su ispirò scendo e bene subito giù verso il basso respiro inspiro tallone destro espiro su inspiro piede destro tra le mani espiro subito su inspiro all'indietro espiro inspiro espiro inspiro subito giù espiro il tallone il tallone sinistro espiro la gamba inspiro piede sinistro espiro subito su inspiro espiro espiro inspiro inspiro espiro subito giù espiro il tallone inspiro il tallone gastro espiro sub inspiro piede dàxio espiro subito giù inspiro espiro espiro inspiro su espiro mi fermo sulla destra questa volta ispirando mi appoggio vomito di ginocchio ben il petto aperto guardo su respiro mantendo scoppiamo un po' la postura c'è il vomito sinistro che si appoggia la coscia il petto che si può aprire la nuca libera respiro espirando questa volta il braccio destro lo porto lungo il corpo mano destra a contatto con la coscia destra mano sinistra bene aperta verso il cielo bene il petto aperto respiro provo a portare anche il mento parallelo alla spalla destra non chiuso la gola ma è una rotazione nella cervicale respiro guardo bene verso l'alto espiro e mantendo inspirando su bene il braccio destro espiro mano destra a terra inspiro sul tallone destro e su verso l'alto il braccio sinistro respiro respirate mantenete guardate su allontanate la spalla sinistra da voi come se qualcuno vi tirasse il braccio sinistro verso l'alto inspiro respiro espiro mano sinistra al centro inspiro tallone sinistro al gluteo espiro gamba sinistra su inspiro piede sinistro tra le mani espiro subito su inspiro l'indiello espiro ritorno inspiro sulle braccia al lungo espiro ruoti piedi e scendo di nuovo fermiamoci qui lentamente portiamo il gomito destro in appoggio al ginocchio destro la coscia destra mano destra bene aperta braccio sinistro allontanate bene la spalla il petto bene aperto respiro e lentamente appoggio la mano sinistra sopra la coscia sinistra respiro voglio portare il mento in linea alla spalla sinistra rotazione nella cervicale senza andare troppo in tensione il manetto che sente sempre il controllo ma comunque si manifesta il lavoro respiro espiro inspirando sul braccio espirando ruoto bene la mano sinistra e terra sul tallone sinistro espiro braccio destro sotto quindi mantengo respiro apro bene il pezzo gamba sinistra dritta e lunga la gamba destra la caviglia sopra sotto il ginocchio caviglia destra sotto il ginocchio stessa linea respiro spiro spiro riempio spiro mano destra attento spiro tallone destro braccio spiro 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 piede destro toglie mangi spiro subito spiro all'indiello spiro ritorno spiro sulle braccia lungo la gamba destra spiro ruolo scendo di nuovo tutto da capo inspiro in avanti subito giù espiro tallone che si solleva inspiro tallone sinistro espiro su inspiro piede sinistro tallone che rientra e subito su inspiro all'indiello espiro ritorno inspiro sulle braccia lungo la gamba espiro ruolo e shane inspiro subito giù espiro tallone che si solleva inspiro tallone destro al gluteo espiro su inspiro piede destro tra le mani espiro subito su inspiro all'indietro espiro ritorno inspiro sulle braccia lungo la gamba espiro ruolo e scendo inspiro gomito ginocchio guardo su espiro mano destra alla gamba destra inspirando di nuovo su espirando la spalla mano a terra inspiro sul braccio sinistro espiro mano a terra inspiro tallone sinistro al gluteo sinistro espiro su inspiro piede sinistro tra le mani espiro subito su inspiro dall'indietro espiro inspiro sulle braccia lungo espiro ruolo i piedi e scendo inspiro gomito ginocchio bene apro espiro mano sinistra la coscia sinistra inspiro su espiro ruolo e mano sinistra a terra inspiro sul braccio destro rotazione espiro mano destra a terra inspiro tallone destro al gluteo espiro su inspiro piede destro tra le mani espiro subito su inspiro all'indietro espiro ricordo inspiro sulle braccia lungo la gamba espiro ruolo di nuovo inspiro scendo mani a terra spiro tallone che si solleva inspiro tallone sinistro espiro sulla gamba inspiro piede sinistro sulle mani espiro subito su inspiro all'indietro espiro torno inspiro sulle braccia lungo espiro ruolo e scendo inspiro subito giù espiro tallone si solleva inspiro tallone destro espiro su inspiro piede destro tra le mani espiro subito su inspiro indietro espiro torno inspiro sulle braccia lungo la gamba espiro ruolo di piedi e scendo inspiro gomito e ginocchio espiro mano destra alla coscia destra petto aperto inspiro su espiro mano destra attenta inspiro sul braccio sinistro espiro mano sinistra attenta inspiro tallone al giudio espiro su inspiro piede sinistra espiro subito su inspiro all'indietro espiro torno inspiro su braccia lungo la gamba espiro ruoto e scendo inspiro gomito e ginocchio espiro mano sinistra alla coscia inspiro su espiro ruota mano a terra inspiro braccio destro su espiro mano destra attenta inspiro tallone espiro su inspiro piede destro espiro subito su inspiro all'indietro espiro torno inspiro allungo la gamba sulle braccia e questa volta ci fermiamo gambe dritte al centro recuperiamo il piede destro i manchi il tallone verso l'esterno senza esagerare la coda in avanti respiro respirate allungate bene le spalle verso le orecchie il mento parallelo terreno ricordate la respirazione all'interno dell'addome lo rubo il lico che si riempie e si riempie allungate bene le gambe inspiro allungo bene le braccia coda in avanti espiro mi inclino sulla destra gambe dritte mantengo respiro rilassate la bocca non date tensione con la mandibola inspirando ritorno al centro coda in avanti espiro mi inclino sulla silica mantengo respiro inspiro ritorno espiro scendo in avanti rimango parallelo al pavimento mantengo respiro attivo bene la spinta sui piedi provo a contrarre i glutei in questa postura immaginate di andare bene in avanti di allungare in avanti respirate guardate a te non inclinatevi all'indietro non buttatevi all'indietro buttatevi in avanti inspiro riempio espiro allargo le braccia per disegnare l'orizzonte le braccia non sono giù non sono su sono in una linea qualcuno vi tira le braccia respirate ruotiamo i palmi delle mani verso il cielo buttatevi in avanti respirate inspiro mano destra a terra al centro espiro rotazione bene perfetto e guardo su inspiro ritorno al centro braccia anche espiro inspiro mano sinistra a terra braccio destro su apro bene il petto inspiro ritorno all'acqua lentamente piego le ginocchia e porto vomito vomito destro sopra il ginocchio destro vomito sinistro sopra il ginocchio sinistro la coda non è su verso l'alto ma la spingo in avanti rilasso bene vedo tutta la colonna non è questo ma è bene questo allungo l'ultima parte della colonna rilasso le mani guardo a terra lentamente porto le mani sotto le spalle indietro la gamba destra indietro la gamba sinistra le ginocchia dorsi di piedi a terra mi siedo sui palloni fronte a terra lascio andare le spalle mi abbandono e nella posizione di balada la posizione del bambino fate scivolare le mani all'indietro rilassate le spalle le braccia usiamo la respirazione dell'addome e del torace amplifichiamo bene l'addome e il torace che si espagnano dovete sentire che nell'inspiro il corpo si solleva verso l'alto nell'espiro il corpo va inverso facciamo delle respirazioni vigorose e ampie e poi lasciare il respiro naturale lentamente la colonna avanti srotolate la colonna e venite mani davanti al petto l'insegna l'insegna della spiro namaste grazie fate bene mi vedi mi vedi ho messo bene vabbè stasera era per sfruttare l'apertura delle gambe fatte meri un fiore un fiore vabbè era un po' per animarci sennò siamo sempre davvero anche 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 ieri sera è davvero addormentato infatti eh non salivano nemmeno le scale ieri sera mamma mia va bene meno male allora bene allora ci vediamo domani alle sei e mezza ok io venerdì venerdì vai sì anche venerdì ciao 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 paola nanna oh ascolta ti ha già avvitato la serena sì è da da carmelo ok allora ci si vede lì io so a fisioterapia poi vi raggiungo lì e poi vediamo dove andiamo a mangiare qualcosa va bene l'importante è che vediamo eh sì vai ci si vede domani allora un bacio ciao ciao buona serata ciao ciao ciao